Buongiorno, buon giovedì, oggi facciamo le cose un po' diversamente da solito. Perché vorrei che iniziaste a fare qualcosa in più voi, nelle ore poche di questo corso, di questo pezzo di corso, e di conseguenza proviamo una cosa un po' diversa, che richiede che io parli meno e che voi facciate un po' di più. Che però va bene, perché così potete iniziare a lavorare anche un po' nell'ottica del vostro progetto. Poi vediamo come va. E al massimo è un tentativo, se fallisce è un tentativo che non rifarò più. E allora oggi, diciamo mezz'ora, la voglio dedicare a raccontarvi e a mostrarvi come far interagire Dialogflow, la gente che ipoteticamente create, creerete, avete creato, con un webbook fatto con Spark, che abbiamo visto due volte fa. Giusto per ricordarci come funziona. Noi abbiamo da una parte Dialogflow, che è la parte verde. Abbiamo la persona che in qualche modo interagiscono con questa parte verde. Questa parte verde, Dialogflow, non sa come fornire le risposte alle richieste che gli arrivano dall'utente. E inoltre a queste richieste, una volta che ha identificato l'intent corretto, ha un software. Ha un software che deve rispondere a una post su HTTPS con un indirizzo pubblico. Questo software riceverà un JSON nel corpo della richiesta del post, prenderà le informazioni che gli servono da quel JSON, tipo l'argomento, l'intent, l'azione correlata e cose simili, quindi farà quello che deve fare, produrrà in qualche modo la risposta e metterà la risposta testuale in un campo di un JSON che tornerà a Dialogflow. Quindi ci sarà una richiesta post da Dialogflow verso il vostro server e il vostro server risponderà, come una qualunque richiesta post. Come una post del server REST che abbiamo fatto l'altra volta, nello stesso identico modo. Ecco, il problema qui è che API, Dialogflow, vuole obbligatoriamente che il vostro server sia raggiungibile non solo da un indirizzo pubblico, che di nuovo è ragionevole, ma anche su HTTPS. Allora, come facciamo, come possiamo fare ad avere entrambi i requisiti soddisfatti, senza dover generare un certificato per ciascuno, possibilmente non self-signed e così così, possiamo usare un software gratuito che si chiama NGROC. NGROC fa un lavoro nella sua vita, che è quello di prendere un indirizzo privato di un vostro server su una porta che scegliete voi e di pubblicarlo su internet, su HTTP e su HTTPS. È il suo lavoro, unico lavoro. Ha poi una versione gratuita, che cambia questo indirizzo su HTTPS tutte le volte che viene lanciato il software. È una versione invece poi a pagamento, che vi permette di dire, ok, qualunque volta io lancio su questa porta il NGROC, dammi lo stesso identico indirizzo. A noi basta la versione gratuita, ovviamente. Allora, NGROC è disponibile per tutti i sistemi operativi, si scarica dalla sezione download, si scompatta, perché è uno zip, lo si mette dove volete sul vostro computer e non è... qui vi dice scaricatelo, scompattatelo, registratevi e usatelo. Il registratevi, non lo dicono, ma è opzionale. Nel senso che funziona anche se non vi registrate. Se vi registrate, vi dà alcune funzionalità in più. Gratuitamente, sempre. Ma al momento non è obbligatorio registrarsi. Funziona anche senza. Quindi basta scaricarlo, scompattarlo, metterlo dove volete e poi dal prompt dei comandi di Windows o dal terminale degli altri sistemi operativi bisogna solo lanciarlo. E questo ci permette di mappare il nostro localhost sulla porta 4567 su un indirizzo HTTPS pubblico. che daremo a Dialogflow per il nostro webhook. Allora, oggi quindi abbiamo questi tre pezzi. Il primo pezzo è un agente su Dialogflow. Questa agente, che si chiama Task Manager, è già su DIR come zip ed è anche in un repository insieme al software fatto con Spark in Java che intercetta questa chiamata post che arriva da Dialogflow e la processa e fa quello che deve fare in base all'intent. Software che adesso vi descrivo. E poi NGROC crea la connessione 3-2. Li mette effettivamente, permette che si parlino. Allora, vediamo come sono strutturati. Allora, questo agente ha questa volta tre intent. L'intent, ricordatevi, è sempre quella porzione di conversazione. Qui noi abbiamo un agente che deve gestire la mia TodoList, quella per cui abbiamo fatto il server rest la volta scorsa. quindi voglio poter tramite un agente vedere tutti i miei task il secondo intent e aggiungere un nuovo task e vedere un singolo task. Quindi ho tre operazioni e ho anche tre intent separati. Per esempio, se vogliamo chiedere tutti i task noi avremo un po' di frasi che l'utente può scrivere. Dimmi tutti i task task list my task per favore dimmi i miei task quali sono i miei task? Non avremo parametri questa volta non c'è nessuna città non c'è nessuna cosa che può essere parametrizzata in questo tipo di richiesta. e abbiamo inserito però un'azione che identifica questo intent proprio perché l'intent come vi dicevo l'altra volta può essere una frase anche come titolo di intent. Quindi usiamo l'azione per poi andare a prendere proprio questo intent nel nostro codice. non ha parametri e non ha risposte perché la risposta la fornisce la dovrebbe fornire il nostro server e ha nella parte fulfillment che è la parte che serve a abilitare il webbook la spunta che abilita il webbook per questo intent quindi gli dice anche se tu avessi risposte scritte non prenderle valla a chiedere al webbook. Stessa cosa una cosa molto simile capita per chiedimi chiedi il singolo task posso chiedere task posso dire qual è il task e e a maggior ragione devo poter dire il primo task vorrei il secondo task dimmi il terzo task la terza cosa da fare e in questo caso un po' come succedeva per il meteo e per la città abbiamo un parametro che è marcato come numero ordinale primo secondo terzo quarto e così via che è obbligatorio perché ovviamente se diciamo dammi un task lui non sa quale task fornirci e quindi dobbiamo dirgli uno due tre che numero di task vogliamo e se manca questo ordinale gli chiediamo esattamente come chiedevamo per la città chiediamo quale task vogliamo che il software ci restituisca tutta questa parte sul riconoscimento dell'ordinale del numero ordinale e la richiesta quale non utilizza il webbook è fatta solo dei PII perché non gli serve fornire una risposta quindi se io chiedo task lui mi chiederà quale io gli dirò primo questa prima parte viene fatta interamente da dialogflow a quel punto quando avrò la richiesta l'intent e il fatto che voglio il primo task quindi il parametro riempito partirà la richiesta verso webbook e anche in questo caso non ci sono risposte e le abilità to fulfillment in maniera simile l'intent per raggiungere un nuovo task avrà una serie di frasi d'esempio e notate che adesso questo this by something eccetera sono marchiati come parametri ovviamente sono frasi non sono come la città o come un numero e sono marchiati con un parametro speciale che è any qualunque cosa quindi in questo caso cercherà di riconoscere un qualunque cosa possibilmente tra virgolette come evidenziato non importa cosa ci sia scritto dentro e questo qualunque cosa sarà quello che verrà aggiunto nella to do list proprio perché noi non sappiamo che cosa qual è l'oggetto specifico che vogliamo mettere in una to do list può essere potenzialmente qualunque cosa e anche questo any obbligatorio perché non possiamo dire aggiungi che cosa aggiungi ci manca poi l'oggetto da aggiungere non ha risposte e ha il fulfillment abilitato quindi dopo aver preparato il gli intent quello che bisogna fare è abilitare il webbook nella sezione fulfillment qui è abilitato e dargli l'indirizzo pubblico su HTTPS giusto quindi non solo il dominio ma anche l'eventuale proseguimento della URL a cui un server risponderà con una post quindi nel nostro caso avremo un server che gira sul computer a localhost 4567 slash tasks quello sarà l'indirizzo a cui riceverà il post la parte iniziale HTTPS 9c quant'altro è l'indirizzo HTTPS che vi restituisce ng-rock questo è un un indirizzo che adesso non funziona quindi adesso lanciamo ng-rock e prendiamo l'indirizzo che ci dà e lo inseriamo qua salviamo e la parte di API la parte di dialog flow è a posto quindi per lanciare ng-rock ci serve un prompt dei comandi io ho già installato ng-rock in applicazioni in questo caso e è giusto un file eseguibile non ha niente di particolare se voi scrivete ng-rock e basta lui vi dà le istruzioni di come si usa e noi dato che siamo interessati a usarlo per la parte HTTP e con la porta 4567 scriviamo ng-rock HTTP 4567 semplicemente quindi HTTP la famiglia di protocolli che si vuole utilizzare e la porta locale del computer perché la porta pubblica sarà la porta 80 se in caso di HTTP e la porta 443 in caso di HTTPS dando invio cambia schermata e vi dice che questa sessione lanciata con ng-rock dura 8 ore e che ha un'interfaccia grafica web relativa a questa a questa parte all'indirizzo localhost porta 4040 e che fa il forward di due indirizzi uno su HTTP e uno su HTTPS entrambi su localhost 4567 e qui sotto ci mostra le connessioni aperte e la storia delle connessioni che apriremo verso ng-rock verso questo indirizzo con l'eventuale stato quindi se le richieste vanno a buon fine sotto comparerà un 200k se le richieste vanno general not found comparerà un 404 not found in questa parte che adesso è nera quindi noi quello che dobbiamo fare è semplicemente copiare quello che inizia con l'indirizzo che inizia con HTTPS e andarlo a incollare in dialog flow prima di slash tasks perché slash tasks è la parte che fornisce il server se noi avessimo avuto una post direttamente sulla root non avremmo ovviamente dovuto scrivere slash tasks il webbook supporta eventualmente autenticazione di base header custom eccetera non ne sono obbligatori non andiamo a impazzire per mettere autenticazione di base o header custom in questo caso lasciamo semplicemente vuoti e lui l'ignora a questo punto salviamo e la parte dialog flow è a posto auspicabilmente e quindi andiamo nella parte java che lancia il nostro server allora questo è lo stesso progetto diciamo potete vederla come un'estensione del progetto che abbiamo fatto per il server rest a una classe che si chiama task una classe che si chiama task dao un db sqlite che è lo stesso db sqlite che abbiamo usato l'altra volta e la classe task e la classe task dao sono le stesse due classi che c'erano l'altra volta per interagire col db non è cambiato niente è quel progetto l'unica cosa che è cambiata è che non c'è più un task service come classe in cui c'erano in cui abbiamo scritto le nostre chiamate rest con spark ma c'è un task webbook che è vuoto e ha un solo post nulla vieta ovviamente di prendere quel progetto che ha delle chiamate rest e aggiungere sotto un'altra post a un altro indirizzo ovviamente facendo attenzione che non collidano che una post su tasks non sia la stessa che si usa anche per l'api rest e nel Gradle ci sono due aggiunte una essenziale e una no quella essenziale è ovviamente la libreria per dialog flow quella ai.pi due punti libai versione 1.6.12 che è la libreria della versione 1 dell'api di dialog flow che mantiene ancora il vecchio nome e questo ovviamente è essenziale la cosa non essenziale è l'altra che è una libreria per fare le emoji perché in una in una in una risposta metteremo la faccina triste semplicemente e loro compariranno gialla con gli occhietti e quant'altro ed è una cosa non essenziale ovviamente dopodiché task webbook task webbook ha un main la libreria di dialog flow usa json di default incorpora json di default per gestire json e quindi lo utilizziamo esattamente quasi esattamente come l'abbiamo utilizzato l'altra volta dove il quasi sta che in questa riga nella riga 30 noi l'altra volta il json l'abbiamo fatto l'abbiamo inizializzato dalla libreria stessa e invece questa volta lo inizializziamo da una json factory che è dentro la libreria di dialog flow quindi usiamo in un certo senso la versione personalizzata di json che viene fornita da dialog flow dalla libreria di dialog flow e poi i metodi from json to json e to json che abbiamo usato l'altra volta sono gli stessi e dopodiché abbiamo e questo è spark la nostra chiamata la nostra url noi vogliamo una post all'indirizzo indirizzo del server slash tasks e riceverà come l'altra volta perché questo è spark una richiesta e una risposta in questo post facciamo tre cose la prima cosa è creare questo oggetto fulfillment questo oggetto fulfillment che è un oggetto vuoto è quello che contiene la risposta che noi forniamo a dialog flow quindi ha tutta una serie di campi precompilati in base alla richiesta che arriva e noi andremo aggiungere poi la risposta effettiva che ci interessa poi abbiamo un metodo che si chiama the webbook che fa tutto il lavoro del webbook che adesso vediamo e poi si setta nella risposta nella risposta di di spark il content type corretto si ritorna output che è questo fulfillment che viene poi convertito in json quindi il json di dialog flow è capace a prendere la classe fulfillment e convertirla nell'equivalente json richiesto questo due book è un metodo che è subito sotto e ha due parametri il secondo è questo oggetto output che è fulfillment ovviamente dobbiamo andare a riempire la risposta con la frase che il software dovrà dare alla persona la prima il primo parametro invece è il corpo della richiesta rappresenta il corpo della richiesta quello che dialog flow manda tramite webbook al server al vostro server quindi la richiesta che l'utente fa viene riempita con i parametri viene identificato l'intent corretto l'azione associata e tutte queste informazioni vengono inviate a voi perché voi per esempio dovrete scegliere cosa fare in base all'intent quando avrete l'intent dammi tutti i task dovrete fare una cosa molto diversa da quando ricevete l'intent aggiungi un nuovo task da una parte dovrete leggere da un database dall'altra scrivere per esempio questa richiesta che nel corpo della richiesta di spark viene convertita in json con il metodo from json che mi ho visto già l'altra volta secondo una classe che è iResponse che è una classe di dialog flow della libreria che mappa quasi totalmente le richieste che arrivano tramite webbook quindi con questi due oggetti viene chiamato questo metodo questo metodo ha tre if il primo dice se l'azione è all task se l'azione è all task sarò nell'intent dammi tutti i task se l'azione è single task sarò nell'intent dammi un singolo task e se l'azione è add task new task sarò nell'intent per aggiungere un nuovo task quindi capisco cosa devo fare se uno volesse intercettare le azioni o avere altri comportamenti potrebbe semplicemente intercettare tutti gli intent che gli interessano noi in questo caso abbiamo cinque intent e ne intercettiamo solo tre gli altri due non sono collegati all'overbook e quindi continuano a funzionare all'interno di dialogflow gli altri due sono il welcome e il default fallback intent e a quel punto in questi metodi dobbiamo fare quello per cui quello che l'intent ci chiede quindi nel primo cosa faremo? faremo una query sul database per prendere tutti i task come abbiamo fatto l'altra volta da task.dao c'era il metodo getAllTask che faceva un select asterisco from ecco e una volta che abbiamo tutti i task dobbiamo preparare la risposta da mandare a dialogflow la risposta è tutta contenuta in una stringa deve essere contenuta in una stringa quindi questo text di riga 64 è una variabile stringa che contiene tutta la risposta che dobbiamo fornire a dialogflow perché dialogflow vuole una risposta in linguaggio naturale quindi in questo caso era molto semplice non c'erano parametri c'era solo la richiesta quindi prendiamo tutti i task creiamo una stringa di testo leggibile e fuori dall'if lo la mettiamo nei due campi in cui dialogflow si aspetta di ricevere la risposta speech e display test sono due perché uno potrebbe scegliere di inserire delle cose nel display test e una versione diversa nello speech lo speech è pensato per essere poi parlato e il display text per essere visualizzato per esempio un emoji un emoticon magari nello speech non serve perché è difficile poi da parlare mentre nel testo visualizzato potrebbe aver senso facciamo poi a quel punto la stessa cosa per gli altri due casi con la differenza che negli altri due casi abbiamo un parametro quindi dalla richiesta prendiamo un parametro quindi nel primo caso quando chiederemo il terzo task il parametro ordinale il parametro un numero e quindi ci viene restituito nel caso dell'ordinale in realtà veramente un numero 1, 2, 3, 4 non il primo, secondo, terzo e quindi con questo numero possiamo preparare il testo di risposta e in questo caso avremo due testi faremo chiederemo al database dammi il task che ha id 1 che ha id 5 e se il task c'è perché noi abbiamo 5 task e chiediamo il quarto e allora il task c'è rispondiamo il task numero 4 è il contenuto del task se il task non c'è perché chiediamo il task numero 100 la risposta sarà mi spiace non posso trovarlo e qui c'è l'emoji della faccina triste questo emoji parser punto parse suoni code slightly frowning e la faccina triste questo text viene poi inserito nella risposta e mandato indietro infine l'insert un nuovo insert a new task questa volta abbiamo di nuovo un parametro che è any ed è una stringa perché viene un json e quindi poi una stringa è un numero poi un oggetto che suvolta numeri e stringhe in questo caso è una stringa e quindi noi prendiamo questo parametro stringa e lo mettiamo facciamo l'insert nel database attraverso il metodo add task di task.dao e in questo caso la variabile text è un fatto quindi ci arriva la richiesta la inseriamo e rispondiamo fatto allora proviamo se funziona quindi lanciamolo allora il server come il solito viene lanciato su localhost 4567 noi abbiamo ancora ngrock che gira e quindi dovremmo riuscire da dialogflow a utilizzarlo quindi se noi proviamo per esempio a scrivere tasks lui ci risponde che era una delle frasi in cui con cui era stato addestrato ci risponde i tuoi task sono 1 2 3 4 che sono quelli che sono presenti nel database quindi funziona riconosce correttamente l'intent riconosce correttamente l'azione e in ngrock vediamo che comparsa un post a tasks con un 200k quindi questo è un ulteriore pezzettino che vi fa capire se le cose stanno funzionando oppure no se noi scriviamo task first task in questo caso non prende first e quindi si può raffinare l'addestramento dell'agente e ripetendo comunque first chiama il webbook e dice il task numero 1 è chiama John per il progetto e di nuovo l'intent è specificato l'azione è specificata e vedete che il parametro ordinale è impostato a 1 se noi per esempio e così via se noi per esempio spegnessimo il server e provassimo a chiedere tasks cosa ci aspettiamo che capiti? abbiamo spento il server quindi non c'è più nessuno che risponde alla post abbiamo mandato una richiesta valida in un intent valido che deve essere gestito dal webbook cosa ci aspettiamo che ci scriva qua sotto in response allora qualcuno dice nessuna risposta qualcuno dice intent di default quello di fallback quindi altre varianti che è l'intent di default e quindi darà una risposta di errore ok quindi nell'intent giusto ma una risposta di errore che vabbè mettiamola insieme a nessuna risposta ok per altre opzioni nessuna risposta o errore ma nell'intent giusto intent di default rimaniamo con queste due e la risposta giusta è nessuna risposta barra errore la risposta è not available perché lui non ha una risposta da dare non dà l'intent di default perché riconosce che la richiesta appartiene all'intent e tutti i task infatti l'intent è ask for all task e quando capita così ovviamente ngrock in questo caso vi dà un 502 bad gateway perché non ha nessuna cui girare la richiesta e nelle informazioni diagnostiche oltre a quel 502 bad gateway vi dice anche che la chiamata webbook è fallita quindi capite in questo caso che è il webbook che non funziona quindi da qui potete capire o che ngrock è messo su un indirizzo sbagliato avete inserito l'indirizzo sbagliato in ngrock o avete inserito l'indirizzo sbagliato dentro dialogflow invece di tasks task oppure v1 tasks e oppure che di nuovo avete un problema sul vostro server tutto questo come vi dicevo è è il modo in cui funziona il webbook è appunto una post da intercettare come intercettavate le post per il server rest e in cui poi fate delle cose in base a quello che è l'intente che vi interessa e come vi ho detto mezz'ora e poi proviamo a voi provate a lavorare e ci sono quasi stato dentro la mezz'ora e tutto questo è su sia su dir linkato e il progetto con di nuovo la gente da importare se volete in dialog flow questo stesso agente di task e in un riposito di github che è comunque linkato su dir quello che vorrei fare in questa ora e mezza è farvi iniziare a lavorare sui progetti perché a noi manca la parte di MQTT che faremo martedì spero in meno di due ore perché non c'è veramente molto da dire su MQTT cioè volendo si può dire tutto quello che volete su MQTT ma su come funziona MQTT funziona in maniera molto semplice c'è qualcuno che manda dei messaggi e qualcuno che li riceve in un modo solo punto non è che poi uno può discutere sulla versione sicura la versione non sicura certificati non certificati ma di base c'è un qualcuno che manda dei messaggi di testo in un certo formato e qualcuno che riceve quei messaggi di testo in quello stesso formato è un broker da qualche parte che però si installa e va ha dei parametri di configurazione che però riguardano soprattutto il fatto che si voglia utilizzare una connessione cifrata oppure no un certificato di un certo tipo oppure no e quant'altro ma nella versione base l'equivalente di HTTP si installa e funziona su una certa porta e fa il suo lavoro di broker quindi probabilmente riusciremo anche in meno di due ore quello che faremo oggi e della settimana prossima fino alla fine del corso e devo parlare con Cerotti per capire se potete accedere a questo laboratorio col materiale fuori da queste ore in un'ora in cui siete ovviamente liberi da lezioni quello che faremo da sicuramente giovedì prossimo sicuramente fino alla fine del corso oggi in quest'ora e magari anche martedì in un'oretta è farvi iniziare a lavorare sui progetti quindi oggi ho solo i raspberry e la prossima settimana cerco di recuperare il carrello per portare giù tutto le Philips Hue le prese e quant'altro e quindi questa parte finale del corso funziona che io taccio non mi registro ovviamente e non registro neanche voi voi potete lavorare sui progetti se avete domande è bene che le facciate se avete dubbi o cose che non funzionano è bene che che li chiediate e è buon essenzialmente gli ingredienti di base aggiunto MQTT di martedì ci sono tutti ormai si tratta di metterli insieme e di personalizzarli per quello che vi serve grazie grazie grazie